Siamo qui con Fabio Michettoni che sarà uno dei protagonisti in sala Investing al prossimo Investing Napoli del 23 marzo. Fabio sarai convolto in un seminario sulle opportunità per il 2018, ce ne vuoi anticipare qualcuna? Sì, innanzitutto faccio una specifica che il mio approccio è quello di tipo intermarket, come le variabili interne ai mercati finanziari stimolano i quattro settori che sono azionari, obbligazionari, materie prime e valutario e come questi quattro settori interagiscono in rapporto a causa-effetto. Proprio in virtù di questa interazione andremo a profilare dei portafogli in modello che verranno confrontati con gli scenari possibili, i più proponibili per quello che riguarda il 2018. Da qui poi si creerà un portafoglio tipo con caratteristiche conservative che dovrebbe essere poi quello da riproporre sul mercato. Quindi argomenti molto interessanti, Fabio vi aspetta il 23 marzo a Napoli e Investing Napoli. Grazie mille Fabio. Un saluto a tutti voi. Grazie mille Fabio.